Manoel Lettieri, una faticaccia, oggi si chiude la prima settimana con un lavoro fisico, tecnico più partita d'allenamento e non di scarico. Diciamo che quello che non manca è la fatica in questa prima settimana di lavoro. Ma sì, ci sta, è il ritiro, quindi dobbiamo correre, sudare. Come hai detto tu, questa è la prima settimana, dobbiamo cercare di assimilare tutti gli schemi tattici del mister e cercarli di mettere in gioco. Oggi abbiamo fatto questa prima amichevole tra di noi, dove appunto abbiamo cercato di mettere le sue idee in campo. Smaltita la delusione per la scorsa stagione, si torna in campo con grande entusiasmo, avete già integrato alla perfezione tutti i tanti volti nuovi voluti dalla società e dal tecnico. Ma sì, come hai detto tu, questa è una squadra rivoluzionata, siamo rimasti in pochi. È una squadra fatta di giocatori importanti che hanno fatto tutte categorie superiori. Sono venuti qua con la massima umiltà, con la massima consapevolezza di voler vincere e ritornare di nuovo nella categoria che gli compete. Sono venuti con la massima umiltà e mettono questa umiltà al servizio della squadra. Lavoro tanto che si sta facendo, il mister si fa sentire tantissimo anche nelle semplici esercitazioni tattiche, così come il vice esposito. Insomma, da subito ritmi altissimi per poter poi proiettarsi nel migliore dei modi alla stagione ufficiale. Sì, sì, sì. Appunto, come ho detto prima, cerchiamo di mettere in atto le direttive del mister. Vuole comunque un pressing alto, un pressing dove non vuole subire la squadra avversaria e ci stiamo mettendo a disposizione cercando di assimilare quanto prima la sua metodologia.